Una ragazza di 15 anni è precipitata dal terzo piano dell'istituto Garrone a Barletta. La studentessa è ferita ed è stata trasportata presso l'ospedale Bonomo di Andria per le cure del caso. Ancora incerta la dinamica dell'episodio, che si è verificato durante l'orario scolastico. Dalle prime testimonianze si tratterebbe di un tentativo di suicidio. La ragazza avrebbe mandato un messaggio con scritto «Vi voglio bene» sul gruppo WhatsApp della sua classe, poco meno di 20 minuti prima dell'accaduto. Inoltre, avrebbe anche pubblicato una storia su Instagram in cui avrebbe detto che sarebbe per succedere qualcosa di negativo attesa per l'esito delle cure giunte in maniera tempestiva presso l'istituto scolastico sul posto anche una volante della polizia locale per ulteriori accertamenti.